Musica Sicurezza, abusivismo commerciale, sagre selvage e riduzione delle tariffe. Questi principali impegni portati avanti da Confesercenti a Rezzo nel 2016 che traccia così un bilancio degli ultimi 365 giorni, trascorsi al fianco delle piccole e medie imprese. Ma Confesercenti è naturalmente prima di tutto un sindacato di categoria delle imprese, del commercio, del turismo e dei servizi e questa è la prima attività e la più importante. Poi eroga servizi alle imprese che naturalmente assistano soprattutto la piccola impresa nel suo processo di vita, quindi di sviluppo quando è possibile, di sostegno quando ci sono difficoltà. Tra le principali novità annunciate dall'Associazione di Categoria per il 2017 è l'avvio di un percorso che porterà alla nascita di Confesercenti Toscana del Sud. C'è questo obiettivo per seguire anche il processo di trasformazione delle istituzioni. Per seguire questi processi, per essere interlocutori, occorre aggregarsi anche nel sistema associativo oltre che naturalmente per meglio rispondere sui servizi innovativi alle imprese di questi territori facendo quelle economie di scala che oggi si impongono un po' dappertutto. Alta l'attenzione dell'Associazione di Categoria per vigilare affinché sia frenata l'escalation del caro bolletta che pesa nei bilanci delle aziende, in particolare dell'acqua e dei rifiuti. Noi vogliamo essere interlocutori più preparati talvolta per poter interloquire con le aziende, con il liato che ci sono affinché l'aggregazione tra le province significhi minori costi e non aumento dei costi come in qualche momento ci pare che sia. Altro tema caro a Confesercenti è quello della sicurezza. La nostra è ritenuta una terra, una zona, un'oasi di pace, però da qualche tempo a questa parte non lo è più. Allora bisogna porre rimedi prima che questa cosa possa degenerare. E questo noi l'abbiamo chiesto e abbiamo richiamato l'attenzione sulle istituzioni affinché ognuno faccia veramente con serietà e con attenzione il proprio dovere. Intensa anche l'attività svolta dall'Associazione di Categoria nella lotta all'abusivismo commerciale e al contrasto delle sagre selvagge. Nel nostro territorio hanno assunto in certe ballate, hanno assunto, non sono più fiere o sagre di paese, ma sono dei veri e propri eventi, quindi controllarli diventa difficile soltanto per i vigili del paese. Quindi ci vuole la mobilitazione da parte dei vigili, della finanza, perché ci vuole un controllo anche da parte della finanza per gli abusivi e tutto ciò che gira intorno all'abusivismo. Ci vuole anche la polizia di Stato e quindi ci vuole un'organizzazione. Questi eventi di malavita, perché bene o male sono malavitosi, debbono essere fermati prima di diventare le vere e proprie piaghe.